Le parole che ho scelto sono Collaborazione, perché l'esperienza CLIM mi ha fatto capire quanto sia importante essere solidari fra di noi. Apertura mentale, perché in questa esperienza è importante avere una mente aperta per apprezzare quello che fanno gli altri. Spirito critico, che serve a discernere quello che possiamo imparare e quello che invece gli altri potrebbero imparare da noi. Apertura mentale, collaborazione e spirito critico sono le mie pillole di CLIM.